Musica Salve a tutti sono Icad e benvenuti in questo nuovo episodio della Let's Play quinto episodio Allora calma vi avevo premesso che andremo nel Nether e quindi cosa faccio ci mettevo questa armatura Vi avevo premesso che andremo nel Nether quindi mi sono preparato un po' cioè non ho fatto un cazzo però mi sono preparato Non so come ci sono fatto ma mi sono preparato se solta Cablestone non l'ha stato il piccolo non l'ha stato alcuna cosa importante perché non vorrei morire Ho preso la Cablestone perché vorrei cioè appena nasceremo se ci sono i gas e ci sparano che crepiamo quindi non voglio perdere il portale del Nether Ci portiamo l'assarino dietro nel caso si spara un gas al portale e si spegne il S e potremo riaccendere Quindi ci portiamo anche il sudano No Tanto non penso di essere così uno sfigato da morire quindi Andiamo Scusate quando andrò nel Nether lager a morire ma è il mio fischio che ci posso fare Andiamo un po' Eccoci qui a predati Ecco la prima laggatona Metto pausi metto pausi L'aggatona laggatona 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 Malodi laggatona Che cazzo è successo Ma minchia non si può giocare così La gabessia Uuuuuh Hai finito di rompere la scatola Posso giocare in santa pace O devi ancora rompere i coglioni Eeeh Scusate Allora è finito Posso fare il mio casvolo di rifugio brutta troia Posso farlo eh Scusate ragazzi ma il mio computer è una merda Che cazzo posso farsi io Cioè solo lui lagga In una maniera più bestiale al mondo Sta roia Sta roia Ok comunque l'ha già finito Chiudiamo sta E prepariamoci Ma che cazzo Non mi sono portato Mmmmm Le porte Comunque non vedo gas Non vedo Quarto Qui dovrebbe essere il nostro rifugio Non l'ho fatto Cioè non ho sbagliato Non avevo avuto un'idea Volevo farlo Solo le pareti Mentre all'interno L'attore di netherrack Qui farò Giusto delle Una casa Giusto per Quando vengo nel netherrack Vengo in questa casa Mi preparo Oppure se ho tanto tempo nel netherrack Tipo ho due o tre episodi Se ho tanto tempo nel netherrack Tipo due o tre episodi Ho un piccolo rifugio Con una casa E potrei depositare E fare un'altra cosa Ecco perché voglio fare Un piccolo rifugio Allora ragazzi Non posso mica tornare indietro A prendere la lenda Perché se torno E rimango Succede che mi crashi Mi crashi Non posso più fare il video Del quarto episodio Quindi è meglio che Adesso il lag è passato Lo sfruttiamo In questo momento Per prendere tutte le nostre robe E poi ce ne andiamo A cavoli nostri Quindi Io c'è un nostro amico Che ci vuole bene Perché dovrà Farsi del male E che cazzo Però Ho fatto un passo Tu ero amico È vero Mi vuoi bene Ok Però guardatevi la storia Mi empatica Devo prendere il quarto Quindi non rompere i marroni Sì ma io ti voglio bene Non è che tu Ma io ti vorrò sempre bene Se mi farai del male È la porcassona Ciao pigman Non puoi attaccarmi adesso Io sono nel bel mezzo Di un lag Quindi non puoi Attaccarmi Se mi attacchi Io ti denuncio Scusate ragazzi Ma non so che cazzo Sto dicendo Sono talmente Impattito per il cazzo Di lag Ma che cazzo Succede Ma Che cazzo No ma Veramente Mica si può giocare così E dai Ma ti aspetta Sti tre secondi C'è Continua a laggare Io ti prendo E ti butto Nella finestra Uno Due Bravo Bravo Brutto pc Del cazzo Vabbè ragazzi Abbiamo preso Un bel po' di Noderac Io volevo La glowstone Non laggare Però dovrò venire Da solo Quindi Scusate Ma il pc Non posso farci niente Sonsen Vediamo Riusciamo a prendere La sustenza Senza che crassi Sì La riesco a prendere Prendiamocene Un 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 bel paio Sì Ma pure Due Stacco Tanto Posso stare Un'oretta e mezza Ma sì Ma pure Quattro Cinque Sei stacco Tanto Non serve un cazzo Quindi me la posso Prendere Allora Ti prego pc Ti amo Non laggare In questo momento Non laggare In questo momento Perché se giuro Che laggi E muoio Per coppa tua Non la lava E ti spezzo Lo so ragazzi Ma Dobbiamo ragionare Con i pc Sì ma è possibile Che in questa Ah ecco la glauston Quindi Best Cambiare piano piano Senza che il lag Mi Uccida Salire lì sopra Prendere un po' Di glauston E scappare No No Ti voglio bene Ti voglio bene Grazie Ti voglio bene Yeah La mia glauston Adesso me la approfitto E mi prendo Tutta la glauston Che posso Perché Non posso Mica tornare indietro La glauston Servirà anche Per le passioni Perché me le voglio fare Però Dobbiamo per forza Venuto Non vedo Rapprendere Una verga Di blaze Oh 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 Si è fattuto Il code Si è fattuto Il code Ebbè Fanculo 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 Vabbè Potrei pure Venire da sola E far caricare Il nether Devo riprovare Così Ma Non posso Con cui Cioè Io vado A 20 fps Anzi Adesso Vabbè Le pv Cps E 2 fps Che pc Di No 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 Siete bellissimi Vediamo Vediamo tutti i soldi che avete Ma fatemi andare via Porca La cassa Eva Ok Si bravo 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 Si Si Scusate Scusate Da mio fratello Scusate Da mio fratello Allora Questo non ci è servito Vabbè ragazzi Questo episodio Spero che vi sia Stato di Questo gradimento Adesso Devo andare Perché Mi stanno Rompare Di maroni Di là Non posso Mettere un pal Perché sto Registrando Con Frax Quindi Cioè Ho consumato L'armatura Perché cosa Fare un cazzo Quindi Ci vediamo Nel prossimo Video Da tutto Preparato Per Fare Cosa Che Sostra Insieme Ciao Escutate Se durante Poco Ciao